Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Quest'oggi mi trovo nella passeggiata della Lanterna, spero di riuscire a visitarla, perché non è detto che sia aperta al pubblico per vari problemi burocratici. Questa è la passeggiata. La Lanterna è troppo laggiù. C'è un vento pazzesco e un freddo barbino. E' quella lì la Lanterna. No, da dove già deve vedere se... Ah no? Il laser di me lo facciamo fare. Hai bisogno di vedere da come si faccia ad arrivare? Sì 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 Eh guarda Mi sono arrivata così sempre la lantella, eh Lo faccio solo per voi perché io soffro di vertigini Sei pronto? sono a 130 gradini a piotte fino a lassù contate che io so fuori di vertigini quindi che Dio me la mandi buona oddio ho già paura che vento barbino freddo sono già stanta non ho ancora iniziato bene del 31 gennaio del 2016 non so se bisogna salire tieni che stiva non mi lascio spiegare che arrivi no inizia la salita ce l'ho fatta è stata dura ma ce l'ho fatta che freddo è stata dura perché se ho avuto i vertigini è stata molto dura la vedo anche molto dura a scendere però la vista è spettacolare peccato le nuvole ma è veramente bello todeteli che 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 Sono tutti monti, tutti forti, sono tutti forti. Sì, il forte della Crocetta, il forte del Gatto, il forte Sperone, poi la schiama. Grazie. La Crocetta, la Crocetta, la Crocetta, la Crocetta, una giornata così non la siete di sicuro. Ci fanno giornata di stramontana, non la concorre come l'antemolietta. Spera che freddo tardino. C'è un po' di mare. La Crocetta, la Crocetta, la Crocetta, la Crocetta. Il这个 ciasno è di potassium a carboni, lo ha fatto adesso. È nello dove c'è questo? Cos'è? Grecale. dentro, si. E' dell'aria un po' alta la E' spiamenta la E ora si scende l'istramma Oddio 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 Oddio, ma no, perché so quei di vertigini no. Purtroppo mi si spenta la telecamera, eccola qua, e quindi non ho potuto fare un pezzo di video, ma adesso andremo nei giardini della lanterna a vedere un po', fate caso ai miei capelli che c'è un vento allucinante, e riprenderò con il cellulare, quindi la qualità sarà molto, molto, molto minore rispetto a quella della telecamera. Voglio farvi vedere una cosa? Noi siamo saliti fino lassù. E che dire, andiamo.